E' incredibile, sembra primavera. Sono venuta a rilassarmi in questa spa così elegante e ho trovato quest'albero di Natale che mi fa venire in mente che dopo Natale bisogna fare i propositi per l'anno successivo, il 2020 e quindi rilassandomi qui per quattro giorni mediterò, amerò, peace and love. Ok, il mio primo buon proposito è essere assolutamente mansueta con tutti. Grazie. Secondo proposito per il 2020. Dopo un giorno e mezzo di terme ritengo che una cosa fondamentale dell'essere umano sia la docilità e quindi prometto in questo giorno bellissimo di sole, dopo aver fatto ore e ore di talassoterapia, prometto a tutti i miei cari amici che sarò docile come un agnello.